Fa male Alice, lo so. Però poi questo dolore si trasforma e diventa un'altra cosa. Ci mancano solo i ricordi più belli. E aiutano, aiutano tanto. Ma ero... era cattiva? No, Alice. Non era cattiva. Ha commesso degli errori, Mastosi. Ma ha cercato di rimediare. Però una donna che mette al mondo da ragazze come voi... non può essere cattiva. Siete due leoneste voi due. Anzi, due tigri.